Piera Maccarrone ha condiviso il post di Leila Yusuf. Su Facebook. 29 gennaio 2016 alle 12 e 24. Leila Yusuf. 29 gennaio 2016 alle 8 e 36. Per Trump sarei una pericolosa terrorista. Le nazioni escluse dalla lista nera in USA sono proprio quelle che hanno dato i Natali agli autori delle stragi contro cittadini americani mentre dai paesi inseriti nella lista non ci sono persone che hanno compiuto azioni violente negli USA. Vedere foto con dati a confronto. Trump non include nel suo progetto Cancelletto Muslim Ban paesi dove ha interessi commerciali che effettivamente sono stati la minaccia reale per la sicurezza. Il divieto di visto si applica anche agli stranieri con più di un passaporto, ossia, cittadini europee barra australiani originarie dai sette paesi musulmani incriminati dall'amministrazione attuale. Si vede che i morti causati da cittadini proveniente dai petrodollari non fanno male più di tanto mentre le minacce di un futuro attacco da cittadini inguaiati di guerra e povertà sono da prevenire. Per Trump sarei terrorista anche io, pazzesco. Quando si dice il Dio denaro. Cancelletto Trump, cancelletto Muslim Ban.